Conclusi nel porto di Giulianova i lavori di messa in sicurezza del braccio di allungamento del Molo Nord. Terminato questo importante step, ora verrà senza ombra di dubbio rispettata la riconsegna del cantiere prevista per fine mese, come indicato nel contratto d'appalto. Ora manca solo da effettuare l'intervento su circa 20 metri di murata esterna. Dunque ancora pochi giorni per chiudere l'intervento avviato nel 2016, se non ci fossero stati vari rallentamenti in particolare, quelli legati al reperimento degli scogli naturali presso le cave autorizzate, probabilmente la parola fine si sarebbe potuta scrivere con grande anticipo. Sì, in perfetto orario sulla tabella di marcia, la ditta schiavo riconsegnerà i lavori entro fine mese. Come potete vedere all'interno del porto non c'è più il pontone che posizionava i massi, che ha finito il lavoro di riempimento della parte crollata e quindi adesso si tratta solamente di fare le ultime sistemazioni e chiudere il cantiere, eliminare il cantiere. Adesso il prossimo passaggio quale sarà? Il prossimo passaggio è già iniziato perché sappiamo che la regione ha iniziato la parte di rilevazione sul lavoro già fatto e dovrà poi fare una nuova gara per gli ulteriori 87 metri che andranno a completare l'opera che protegge l'ingresso del porto. Cosa cambia adesso con questi lavori? Sostanzialmente una volta terminata questa diga protezione dovremmo avere all'interno dell'area portuale una situazione un po' più tranquilla quando il mare è imperversa, nel senso che dovrebbe consentire l'attracco delle imbarcazioni anche sul lato est del molo Laudadio che oggi quando c'è mare mosso è impraticabile per via della risacca che si forma.